La novità quest'anno del Cosmoprof è questo trattamento T-Modell T-Shock, che è un esclusivo trattamento modellante naturale e non invasivo, che riduce le circonferenze corporee. Grazie all'innovativa formula naturale dei laboratori Centrum S&G, una formula di 31 erbe abbinata a questa base salina, il cliente in un'applicazione perde in media 40 cm. Molto importante è che questa riduzione di questi 40 cm su tutto il corpo viene garantita dal nostro centro estetico. Garantita significa che se si perde meno di 20 cm non deve pagare il trattamento, quindi il trattamento è diventato in omaggio, perché vuol dire che questa forma non ha fatto effetto sulla sua silhouette. Si possono fare circa 8 strutture in un mese e la distanza è 2 alla settimana. Il trattamento dura circa 40 minuti. Siamo partiti da circa 6 settimane con questo progetto e ci sono circa 600 centri sparsi per tutta Italia. Noi abbiamo un kit completo al centro estetico con tutto quello che è il materiale d'uso, quindi tutto il prodotto del laboratorio Centrum S&G, dà le bende, gli impacchi a tutto e anche il materiale per presentare ai loro clienti il progetto con tutte queste formule che sono una garanzia per il cliente finale. E devo dire che quello che piace al cliente è che finito il trattamento si sente più leggero, più sgonfio e quindi sente proprio il risultato. Mi sa che guardarci allo specchio è come se avesse perso una taglia.